Nel 1997 i corner shop hanno dedicato brimfulofascha, andascha, boschle, eh? Eh? Non ho capito. Che ha detto? Eh? Che ha detto? No, non ho capito. Che ha detto è la cosa che si domanda lei, di quello che ha detto lei. Brimfulofascha, andascha, boschle, eh? I corner shop hanno dedicato brimfulofascha, andascha, boschle, una famosa... Una famosa... Ho sbagliato boschle? Eh? Ho sbagliato... No, adascha, adascha, boschle. Una famosa... Una famosa chi? Chi? Cantante indiana... Una famosa cosa? O cosa? Aiuto. Cantante indiana o modella cubana? Eh, direi... Modella cubana. Modella cubana? No. No. Anche no. Anche no. Anche durante pure voi. È una cantante indiana. Cantante indiana. No, no, no. Applauditelo sulla vostra esposta sbagliata. Eh. Dai. Questa era What is Love? Di Haraway. Che scalò le classifiche nei primi? Anni 90 o anni 2000? Eh, oddio. Ho un piccolo dubbio. Risordino. Ti guardo, ti guardo e me lo tolgo. Eh, credo 90. E che ci ha scritto 90 in falce? Brava, brava, esatto. Grazie. Valeu. Grazie.